Buonasera a tutti e rieccoci ancora una volta sintonizzati su CannoTV. Oggi parliamo di Tex e in particolare dell'ultima storia apparsa sulla regolare del personaggio. Compresa fra i numeri 732, 733, 734 e 735, si intitola, non so come si intitola perché tutti, ovviamente, ogni albo ha un titolo diverso per cui si potrebbe dire che questa storia ha quattro titoli, non ho idea di come si intitoli, si intitola un po' come volete voi però vi posso dire che è una storia meravigliosa, una delle più belle storie di Tex che ho mai letto. È già uscito il numero successivo di Tex, questa storia ci ha fatto compagnia in edicola da ottobre a gennaio per cui io naturalmente, orgogliosamente, eccoci arrivo con un po' di ritardo perché naturalmente ho i miei tempi di lettura e poi questa storia è piuttosto articolata, infatti la scrive Mauro Boselli, la disegna Giovanni Bruzzo e naturalmente le copertine sono ad opera del grande Claudio Villa. Cupertine che io vi mostro, giusto così per farvele vedere, naturalmente essendo uscita in edicola già da qualche tempo questa storia, naturalmente qualcuno la conoscerà bene, però queste copertine sono fantastiche. Qui vedete anche comparire Jim Brandon che comparirà naturalmente in questa avventura, Jim Brandon che è uno dei, diciamo, degli alleati storici di Tex, io mi ricordo, forse potrei sbagliare, però la prima storia in cui Jim Brandon appariva era anche la prima in cui appariva Grosse Jeanne, se la memoria non mi inganna, per cui torniamo davvero agli albori del personaggio di Tex, ma insomma, vedete, queste copertine sono meravigliose. Qui qualcuno ha fatto notare un po' la citazione a un album di Bennato, a me ricorda un po' il Banco del Mutuo Soccorso, questa copertina, qualcuno si chiederà, ma che cosa c'entra il Banco del Mutuo Soccorso? Niente, però a me mi ricorda un po' quel gruppo, meraviglioso gruppo, e poi c'è questa copertina bellissima, no? Con Tex immerso nella nebbia, veramente una copertina misteriosa, anche un po' inquietante, con questi simboli indiani. Insomma, una storia fantastica, che non è proprio una storia western, ma è più una storia di avventura, perché si incentra sul leggendario passaggio a nord-ovest, che l'esploratore John Franklin ricercava con tanta convinzione, scomparendo, poi non si sa che fine ha fatto questo esploratore, e naturalmente poi, insomma, la storia, diciamo, ha aperto varie interpretazioni, no? Quindi cinema, televisione, letteratura e anche fumetto se ne è più volte occupato. Recentemente era uscito anche una storia di Martin Mister, che io, peraltro, non ho ancora letto, e sempre quel mio famoso ritardo cronico, che si chiama, che si intitola A Nord di Nord-Ovest, che, appunto, diciamo, riporta, no? La tematica di John Franklin e della sua spedizione. Anche questa storia di Tex si è occupata, appunto, di questa storia, no? Di questa leggenda, di questo fatto storico, imperniato, diciamo, di mistero. E qui, infatti, in questa storia protagonista è una spedizione britannica, che, diciamo, a una quarantina di distanza, in grosso modo, di danni dai fatti, decide di partire, appunto, per capire che fine abbiano fatto queste navi, questo esploratore. Tex e Carthor saranno coinvolti, appunto, in questa spedizione. Ovviamente ci saranno un sacco di personaggi in gioco, da una ballerina di Saloon, che però è anche un'eccellente tiratrice, quindi partecipa a questa spedizione, ha il suo ex fidanzato, scusate, fidanzato, fidanzato che la ricerca in compagnia di un indiano, e poi ci sarà un Inuit minaccioso, una mezzosangue, diciamo, Inuit, che anche lei si unisce alla spedizione e ha dei rapporti, dei legami con Jim Brandon, che naturalmente chiama Tex Carson, Tiger Jack e Keith Wheeler, qui ci sono tutti quanti in questa avventura, ed è un qualcosa di meraviglioso. Io, naturalmente, non ve la racconto più nello specifico, perché bisognerebbe, insomma, starci giorno e notte qui per raccontare tutte le dinamiche di questa storia, molto articolata, anche perché poi tutto questo gigantesco gruppo, costituito, naturalmente, anche dai professori, dagli scienziati che compongono questa spedizione, si, diciamo, stacca e riunisce, si distacca e si riunisce più volte nel corso della storia, affrontando una svariata moltitudine di pericoli, fra cui anche una mostruosa tribù che a quanto pare dovrebbe essere indiana, ma che poi nel corso della storia, verso il finale, insomma, si scoprirà non essere propriamente indiana. Per cui, ecco, io non vi voglio, naturalmente, svelare nulla, non vi voglio svelare i vari passaggi di questa avventura che io ho trovato maestosamente eseguita dal genio letterario di Mauro Boselli, che veramente qui arriva a fare un lavoro incredibile. Cioè, qui siamo all'equivalente di un romanzo salgariano, come diceva Oku Zaybar, che saluto qualche tempo fa, appunto riferendosi a questa avventura, lui la paragonava per complessità di trama e, appunto, anche per tematiche affrontate ad un romanzo salgariano, ma anche ad un romanzo di Jules Verne. Cioè, questo è proprio una graphic novel, cioè un romanzo a fumetti, ok? Quindi qui siamo oltre, secondo me, l'albo da Edicola, così, che esce e si legge nel giro di una mezz'oretta, nel giro di 40 minuti. Questa storia è qualcosa di più, secondo me. Merita una lettura approfondita, una lettura tranquilla, naturalmente, anche perché, insomma, nel primo albo ci sono una ventina di pagine in cui i nostri protagonisti sono attorno a un tavolo e discutono sul come agire, sul che cosa gli aspetterà, sul come organizzarsi, cercano di fare un po' il punto della situazione, per cui è una storia sicuramente che non si legge nel giro così di uno schiocco di vita. Però sta proprio qui la sua forza. Ecco, io mi sono divertito proprio a passare del tempo a leggerlo e forse avrei desiderato che durasse ancora di più perché, giunti già a metà del secondo albo, ci si affeziona ai personaggi e quindi quasi mi è dispiaciuto lasciarli, no? Una volta che l'avventura era terminata. I disegni sono affidati a Giovanni Bruzzo che qui fa un lavoro, secondo me, magistrale. Io vi mostro qualche tavola così a random senza soffermarmi più di tanto perché ovunque lo si guardi il lavoro di Giovanni Bruzzo, secondo me, è eccellente. A me piacciono da impazzire i tratteggi che Giovanni Bruzzo fa sugli abiti, insomma, sui vestiari, sui vari personaggi. Per cui è un qualcosa di veramente eccellente, no? Guardate anche appunto questa tecnica, diciamo, nel gestire le inchiostrazioni, i chiaroscuri, le chine. È un qualcosa di veramente incredibile. Le matite di Giovanni Bruzzo. E poi è un lavoro molto difficoltoso perché con il pennino, insomma, eseguire, diciamo, la nebbia, no? Che regna appunto costante in queste regioni artiche è di una difficoltà enorme. Per cui anche vignette che in realtà possono apparire semplici, quali appunto, ad esempio, queste, in realtà sono difficilissime da eseguire. E per cui è un lavoro veramente che lascia, secondo me, senza fiato. Cioè, c'è anche un'attenzione, ecco, nel caratterizzare i volti dei vari personaggi, nel renderli naturalmente espressivi. Guardate che meraviglia queste vignette. Per cui è un lavoro incredibile. E poi è un lavoro immenso. Cioè, io voglio dire, qui sono 100 pagine abbondanti, 115 ad albo, per cui veramente sono quasi praticamente 500 pagine disegnate in maniera superlativa, in maniera stratosferica. Per cui, che cosa dire, è una storia che incanta, oltre che dal suo lato narrativo, anche dal lato grafico. Io continuo appunto a mostrarvi alcune vignette, alcune tavole, incredibili. Giovanni Bruzzo ha disegnato in maniera superlativa tutto quanto. Indiani, paesaggi, animali, anche perché, insomma, ci sarà un orso, naturalmente, che farà da collante per alcune sottotrame, naturalmente, che vedrete nel corso di questa storia. Io, ancora una volta, vi ripeto, non vi dico più di tanto, ma lo faccio per voi, perché se vi, diciamo, no, lo faccio anche un po' per me, naturalmente, per non complicarmi le cose. Però lo faccio anche un po' per voi, per non rivelarvi troppo, perché se qualcuno non ha letto questa storia, io gli consiglierei assolutamente di recuperarla, perché qui, insomma, questa storia merita, merita assolutamente di essere letta, è bellissima, è un'avventura. Ecco, a me è venuta voglia di partire anch'io alla ricerca di questo John Franklin, ed è particolare, appunto, perché non è una storia western, è una storia di avventura in cui, naturalmente, compaiono le, diciamo, le tematiche, no, western, appunto, ci sono le tribù indiane, c'è naturalmente Tex, c'è Carson, ci sono un po' tutti, però non è propriamente una storia western, ed è ugualmente meravigliosa, forse anche di più di tante storie western che regolarmente appaiono sulle varie testate di Tex, ma anche su altre testate relative ad altri personaggi western. Io non posso fare a meno, quindi, di consigliarvela, assolutamente. Cercate di recuperarvi questa storia perché vi darà qualcosa, vi trasmetterà, secondo me, dei grandi valori e delle grandi emozioni. E nel caso l'abbiate letta, facciamoci due parole su questa storia, quindi scrivete che cosa ve ne è parso, se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, che cosa vi è piaciuto di più, quale personaggio avete preferito, insomma, veramente se ne può parlare a oltranza di questa storia, perché ha messo in scena, secondo me, un qualcosa di meraviglioso. Io termino quindi qui la mia chiacchierata, ringraziando chi mi ha ascoltato, sono curioso appunto di conoscere i vostri pareri a riguardo. Per il resto, vi auguro un buon proseguimento di serata, e ci rivediamo a voi piacendo al prossimo video. Ciao a tutti!